Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per il pareggio in rimonta subito con la Carrarese che gli uomini di Malotti si rituffano nel campionato. Domani nel turno infrasettimanale il Montevarche giocherà in trasferta sul campo di Modena. Il pronostico pende in modo evidente dalla parte degli Emiliani, i quali sono proiettati verso la Serie B, primi a pari merito con la Reggiana. Domenica scorsa per i Canarini un pareggio a Lucca. Prima di quella partita, tre vittorie e un altro pareggio. All'andata ribaltando i pronostici ma con pieno merito dopo una prova più che convincente, il Montevarchi vinse 2-1. La stagione entra nel vivo e i rosso-blu sono chiamati a dare il meglio di sé per risalire una classifica che nelle ultime settimane in coda si è accorciata. Testa al Modena perché un uomo un bocca un altro non ce l'ho mai visto e quindi io confido anche di fare una buona prestazione e magari un buon risultato al Modena. Ma se non sarà così non saremmo certi primi che vengono scompiti da Modena. Sicuramente siamo stati tra i pochi che l'hanno fatto. Sicuramente andiamo lì carichi per fare la nostra partita. Sappiamo quali sono i nostri punti di forza, sappiamo quali sono i loro punti di forza e quindi saremo sicuramente attenti. Per fare una grande partita servirà tanta concentrazione per 95 minuti. Grazie.